E lasciamoci incantare dagli alberi. Ci sono alberi scapigliati ed alberi raccolti come mani che pregano. Nell'antico Celtico, quer c'è una parola composta, è quercus, cus è l'albero, quer è bello, chiamavano come bell'albero. Ti abbiamo tagliato, albero, come sei spoglio e bizzarro, cento volte hai patito, finché tutto in te fu solo tenacia e volontà. E ora vi apro. E qui ci sono i libri. Che cos'è la Little Library? I libri contenuti nelle casette biblioteca potranno essere presi liberamente dai cittadini. Il grau corivo che nutre i nostri figli. E nessun uomo, giovane o vecchio, lo distruggerà. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. E gli uccelli strappare semi non ruttano. L'albero è una rete. Per participe con i nostri figli...